buongiorno buongiorno amici mini live dedicato a tutte le mie amatissimi guerrieri di neo ho veramente pochi minuti perché ho promesso di essere un ufficio alle 10 stamattina tanto lavoro fatto altre cose però voglio fare dieci minuti di fluid con voi perché è modo io non posso iniziare la giornata senza fare i fluid perché mi c'entra ok divaricamo le ginocchia andiamo proprio in child pose sarà veloce ma meglio dieci minuti che niente meglio un momento di trovare un centro qual è il centro centro e di nostro intenzione della giornata cioè salutare il corpo riscaldare le articolazioni mi inspiro su sono su le mani faccio piccolo giro sopra i polsi proprio per dire sono viva ok dall'altra parte e poi ormai sono diventate anche quasi aggressivo nel proteggermi questo spazio perché quando qualcuno mi ruba la mia ok torniamo indietro in dando spingi con i taloni per aprire proprio il polpaccio e strecciare ok destra sinistra quando qualcuno come vedo che qualcosa qualcuno mi ruba questi minuti per me che siano per me è come il caffè per un altro essere umano divento aggressivo perché dico mi servono mi serve questi questo riscaldamento vengo in plank ok e chiudo mi tengo con il collo dei piedi giù germinali tesi questo è un esercizio eccellente per riscaldarci per fare poi in futuro una presa senti come si queste coinvolge di più l'abdome perché per sorreggere le gambe deve coinvolgere l'abdome per non gravare troppo sulle caviglie ritorno indietro downward looking dog giù inspiro porto le gambe in avanti mi allungo in avanti scendo giù inspiro completamente su mani uniscono di fronte inspiro su questa volta rimango soltanto centrale rimango qua e senti come portando indietro poco poco le gambe puoi sentire allungare dietro senti anche la schiena allarga le braccia fuori e comincio a fare polsazioni in su per le spalle 8 7 6 5 4 3 abbassa la destra e guardi su con la sinistra e guardi su con la destra rilassi le spalle torno centro invertisco faccio dall'altra parte braccio destro giù gambe sinistra su giù mani giù gambe indietro torniamo sul nostro plank collo del piede giù sollevo le anche e prova di rilassare le e le spalle ok e trattengo per 8 7 6 5 4 3 2 piego le ginocchia stendo la gamba destra sempre gambe sinistra ok perfetto poi chiudo estendo chiudo estendo chiudo estendo e cambia la mano ok lascio la sinistra giù e faccio una side plank variato così sono allineato gambe destra su mano sinistro ginocchio sinistro giù braccio destra che va su se voglio allungo il braccio sotto di me sopra il mio orecchio faccio 4 e 3 e 2 mano destra che passa dal fianco giù giro giù il fianco e mi sollevo in downward looking dog porta ginocchio destro frontale porto di fronte a me high lunge scendiamo e tratteniamo semplicemente la posizione per fare una veloce fluid stamattina per sfigliarci i muscoli e poi per essere orgogliosi di noi stessi diciamo la verità scendo giù ok mano giù destra giro il piede sinistro stacco la destra da terra altro side plank dall'altra parte per 4 per 3 per 2 per 1 plank rimango collo dei piedi giù trattiene la posizione 10 9 8 7 6 5 4 3 2 piega le gambe torno indietro stendo la sinistra braccio destro di fronte trovo il mio sostegno dal core e chiudo 4 stendo 3 stendo 2 stendo ultimo 1 stendo trattieni trovare la tua forza il tuo appoggio giù con il braccio destro apro lateralmente ok adesso una side plank diverso su braccio passa sopra la mia testa se voglio bravi 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 trattieni senti come si convolge tutto sono stesa braccio sinistra scende verso il fianco non passare di fronte perché quella potrebbe stressare la spalla giù torno giù tengo la gamba sinistra tesa vado down looking dog rispira ginocchio al petto poggio il piede salgo in high lunge trattengo come scappa il via tempo ma conte dimmi che non sentete già in cinque minuti già più centrati devo guardare perché magari qualcuno arriva proprio alle 10 di vedermi in ufficio e non ci sono poi arriva il telefono dove sei sto arrivando aspetta e non dobbiamo agitarci assolutamente rimango sentito qua senti nel lavoro una bella impronta nel piede sinistro a terra all'ucidestra con volto gambe destra tesa 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 ok braccio sinistro giù stacco mi giro il piede destro all'interno all'arco plantare stacco in su e senti il sollevamento del nostro obliquo sinistro da sotto che ti solleva per quattro per tre per due per uno mano destra giù torniamo in plank collo del piede trattengo bella preparazione e dopo per fare questo ti aiuta veramente tanto per fare bene le nostre verticali e le prese e le cose un po' più diciamo ginniche di fluid torno indietro andiamo a walking dog questa volta però vedi trovare una posizione con i bicipiti che vanno verso la parte anteriore del tappeto tricipiti verso i piedi talone nascosti dietro i miei piedi così non vedo il talone piego le gambe vengono avanti in due o uno balzi stendo su scendo giù inspiro su e poi l'altra cosa che volevo dirvi quando facciamo i balzi in avanti a volte richiede molto meno forza di quelle che pensate uno si lancia è più tranquillo di quelle che potete pensare scendo in tre in due in uno spingo contro il pavimento up dog andiamo in down dog sollevo la destra porto in avanti la destra l'appoggio in avanti e cominciamo a fare braccio dietro la testa e pieghiamo otto stendo sette stendo sei stendo non sto venendo tanto su ancora cinque quattro tre due ultima uno stendi rimango braccio destra scende giro stacco side plank per otto sette sei cinque quattro tre due down looking dog ricupero sollevo la sinistra la portano avanti tra le mani sollevo braccio su dietro la testa stendo e otto stendo la gamba destra due stendo spalle indietro tre stendo quattro e cinque respiro sei sette ultima otto stendo trattengo braccio su sinistra scende giro giù sulle parti interne del piede destro e sollevo per otto sette sei cinque quattro tre due braccio destra giù torno and down one looking dog piego le ginocchia questa volta lascia su le ginocchia andiamo a un puppy pose che vuol dire petto giù fianchi su stendo le braccia quando si comincia con fluid non smetterei mai continuerei per ore ma purtroppo oggi devo fare una mini live perché il dovere mi chiama in ufficio volevo semplicemente fare questa mini live con voi abbiamo fatto qualcosa per risvegliare il nostro corpo salutare il nostro corpo partire con una giornata migliore vi ringrazio a tutti quanti passate una giornata fantastica e vi aspetto qui alle 18 e 30 per fare una lezione di super jump power ma essendo power potresti farlo anche a terra così se non avete il trampolino non c'è problema potresti mimare o seguire anche a terra baci dalla Jill e vi aspetto stasera a tutti a tutti Grazie a tutti.